Torniamo in studio per l'ultima parte di Bookmania di oggi. Abbiamo già parlato di diversi libri per tanti audience differenti e quest'ultimo non poteva mancare un libro di tipo fantasy. Vi faccio vedere la copertina, si intitola I centomila regni di N.K. Jemisin, un'autrice americana che arriva proprio in questo periodo in Italia con due libri, uno dei quali è appunto questo I centomila regni. Un libro che fa parte di una serie fantasy classica, quindi dove l'ambientazione ricorda quella medievale, ma la particolarità di questo libro e della fantasia che permea la serie è quella di rifarsi agli dei dell'Egitto, quindi il dio del sole, il dio del crepuscolo e il dio della notte. Ma prima di entrare nel merito del libro e di leggerne anche un pezzettino, vediamo il book trailer. Yain Dar è un'esiliata del Barbaro Nord. Quando sua madre muore in circostanze misteriose, viene convocata nella maestosa città di Sky, sede della famiglia dominante Aramery. Lì è nominata a rete del re e la notizia la sconvolge, ma il trono dei centomila regni non è facile da conquistare e Yain si ritrova coinvolta in una brutale lotta per il potere contro due cugini che non sapeva nemmeno di avere. Mentre combatte per la vita, si avvicina sempre di più alla verità sulla morte di sua madre e sulla storia di sangue e della sua famiglia. Con le sorti del mondo in precario equilibrio, Yain imparerà quanto pericoloso possa essere vivere in una situazione in cui amore e odio, dei e comuni mortali si ritrovano inestricabilmente legati. Nata in Iowa, Nora Jemisin è cresciuta tra New York e l'Alabama. Dopo numerosi racconti, pubblica i centomila regni, opera d'esordio e primo volume della trilogia L'Eredità, candidato a Hugo Nebula e World Fantasy Award, e con il quale nel 2011 ha vinto il Locus Award come miglior primo romanzo e Romantic Times Reviewer's Choice Award. Attualmente vive a Brooklyn, dove oltre a scrivere romanzi e racconti, lavora come consulente universitario. Ed eccoci tornati in studio dopo aver sentito quella che è la trama dei centomila regni, un libro molto particolare raccontato da una voce narrante femminile, quello della protagonista, che è al tempo stesso illuminante ma anche ironico e si troverà alle prese con una situazione davvero difficile, perché non è abituata agli intrighi di corte. Lei che è sempre vissuta nell'ombra, figlia anche di un'erede al trono, sì, ma scomunicata e allontanata per le proprie scelte. E proprio di questo volevo parlarvi con l'estratto del libro che intendevo leggervi, che è all'inizio ed è quello proprio in cui parla di come nasce lei e di come è nata anche la storia dei propri genitori. Non sono più quella che ero una volta. Mi hanno fatto subire di tutto, mi hanno aperto e strappato via il cuore. Non so più chi sono, devo provare a ricordare. La mia gente racconta delle storie sulla notte in cui sono nata. Dicono che mia madre strinse le gambe del mezzo del travaglio e lottò con tutte le sue forze per non farmi venire al mondo. Nonostante ciò sono nata, questo è certo. Non si può impedire alla natura di fare il soccorso, anche se non mi sorprende il fatto che lei ci abbia provato. Mia madre era un'ereditiera della famiglia Rameri. Una sera era stato dato un ballo per la nobiltà di rango inferiore, il tipo di cose che accadono una volta ogni dieci anni, una sorta di contentino concesso alla loro autostima. Mio padre osò invitare mia madre per un ballo e lei si degnò di accettare. Mi sono chiesta spesso cosa lui possa aver detto o fatto quella sera per farla innamorare così perdutamente, tanto che alla fine lei rinunciò alla sua posizione per poter dare e stare con lui. Una di quelle cose che si leggono solo nelle favole, vero? Molto romantico. Nelle favole di solito una coppia come questa vive per sempre felice e contenta, ma non si racconta mai cosa succede quando un simile evento reca oltraggio alla famiglia più potente del mondo. Ma sto dimenticando me stessa. Chi sono io dunque? Ah sì, il mio nome è Yeine. Tra la mia gente sono Yeine, Dao, She, Kinet, Tai, Ver, Sonem, Kanna, Darre. Ciò significa che sono la figlia di Kinet e che la mia tribù appartiene al popolo Darre, si chiama Somen. La tribù vale poco più per noi oggi, ma prima della guerra degli dèi avevano una certa importanza. Ho 19 anni. Sono, o meglio ero, il capo del mio popolo, una Ennu. Secondo l'usanza degli Arameri, cioè quella della razza degli Amn, di cui, dicendo, io sono la baronessa Yeine Darre. Un mese dopo la morte di mia madre, ricevette un messaggio da parte di mio nonno, De Carta Arameri, che mi invitava a visitare il luogo dove risiede la mia famiglia. Poiché l'invito di un Arameri non si può rifiutare, mi misi in cammino. Il viaggio dal continente del lontano nord, a Senm, attraverso il mare del Pentimento, durò quasi tre mesi. Malgrado la relativa povertà del popolo Darre, viaggiai per tutto il tempo con una certa comodità, prima su una portantina, poi su una nave e infine su una carrozza trainata da cavalli. Non fu una mia scelta. Il consiglio dei guerrieri di Darre, che nutriva la remota speranza che potesse riuscire a risanare i nostri rapporti con gli Arameri, pensava che questa stravaganza potesse essere d'aiuto. È risaputo infatti che gli Anne ammirino l'ostentazione di ricchezza. Quindi avete capito già da poche righe come è capace la Gemisin di introdursi direttamente e di introdurre il lettore dentro a un mondo completamente differente e dentro a una situazione già in corso d'opera. Consigliatissimo quindi I centomila regni di Gargoyle Books, lo vedete anche in sovrimpressione, scritto da Gemisin, un'autrice che sicuramente è da tenere d'occhio. Tra l'altro avete sentito vincitrice anche di diversi premi. E con questo direi che abbiamo terminato la nostra puntata di oggi di Bookmania. Vi ricordo i libri di cui abbiamo parlato, che sono Pietra il mio nome di Lorenzo Beccati, pubblicato dalla casa editrice Nord, un thriller storico molto interessante. Abbiamo parlato di un romance particolare, non convenzionale, per una volta nella vita, magico e struggente di Rainbow Rowell, pubblicato dalla PM. Abbiamo parlato insieme anche all'autrice dell'Uragano di un batter Dali, di Sara Tessa, pubblicato da Newton Compton. E infine I centomila regni, un romanzo fantasy, il primo di una trilogia, pubblicato da Gargoyle Books e scritto da N.K. Gemisin. A questo punto non possiamo far altro che salutare gli ascoltatori di Ciao Radio, che ci seguono il sabato mattina dalle frequenze 90, 100, 91 e 200. Salutare chi ci segue dalla TV, da DTV 210, anche via web, in tutta la regione Emilia-Romagna. E salutiamo e ringraziamo anche i parrucchieri Forever, in particolare Monica e tutte le ragazze dello staff. Se volete andare a trovare si trovano in via Nicolò dall'Arca a Bologna. E con questo è davvero tutto, ringrazio Lucia in regia, Francesco Rinaldi, che si è occupato dei book trailer e appuntamento a sabato prossimo. Bookmania, appuntamento settimanale con l'editoria. Il sabato alle 11, gli autori raccontano i loro libri. In diretta su Ciao Radio e DTV, canale 210. Conduce in studio Erika Zini.